Benvenuti da FTA Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studio del sito ftaonline.com. Oggi andiamo a guardare l'andamento dei mercati obbligazionari e cerchiamo di capire se ci sono degli indizi che si possono ricavare dall'analisi di questi strumenti utili per capire cosa potrebbe accadere anche all'azionario. Il dibattito attualmente per quello che riguarda gli investitori è incentrato soprattutto sulla possibilità che la Fed vada ad alzare o meno i tassi ancora nel corso dell'anno. Probabile che nel mese di luglio la banca centrale si muoverà effettivamente con un ulteriore rialzo ed è possibile che un analogo intervento verrà operato anche prima della fine dell'anno. i mercati speravano di avere una Fed meno aggressiva sul fronte della politica monetaria nella seconda parte del 2023 potrebbero rimanere delusi e infatti se andiamo a guardare nelle ultime settimane c'è stata una fermata nella fase di ripresa delle quotazioni obbligazionarie voi sapete che i prezzi delle obbligazioni hanno un andamento inverso rispetto a quello dei rendimenti quindi quando i prezzi dei bond salgono vuol dire che il loro rendimento diminuisce e viceversa. Per motivi solo di campanilismo andiamo anzitutto a guardare il grafico del BTP future e notiamo che c'è stata appunto questa prolungata fase di discesa delle quotazioni nel corso del 2022 causata appunto da un'impennata ai rendimenti poi però l'andamento dei prezzi si era mosso per vie laterali tanto che se andiamo a guardare l'andamento della media mobile esponenziale a 100 giorni che ci dà la percezione della condizione del trend di medio e lungo periodo vedete la troviamo perfettamente orizzontale ormai da inizio anno. Questa fase di lateralità però non si è mai per adesso evoluta nel senso di un rimbalzo. Quello che di solito accade sui mercati è che dopo un movimento in una direzione c'è una correzione in direzione opposta se poi questa correzione si sviluppa oltre certe percentuali di ritorno si può immaginare che il movimento precedente sia stato messo in discussione in questo caso invece dopo la fermata della tendenza ribassista c'è stato appunto questo movimento laterale che per il momento non è però sfociato in un vero e proprio rialzo quindi il trend dominante rimane ancora quello del ribasso quasi che questa pausa sia stato solo appunto un momento per tirare il fiato prima di una nuova discesa. È plausibile una nuova discesa se andiamo a guardare il grafico lungo termine ci accorgiamo che per adesso la fase negativa per le quotazioni quindi come dicevamo di rialzo dei rendimenti vista nel 2021-2022 ha ripercorso la metà circa del rialzo che c'è stato dai minimi del 2011 quindi niente di drammatico in termini percentuali il che vuol dire che effettivamente potrebbe esserci ancora un'ulteriore fase di calo dei prezzi e quindi motivata da un aumento dei rendimenti. Quali potrebbero essere le motivazioni? Beh la BCE sta ancora proseguendo con la sua politica monetaria restrittiva e come detto anche la Fed che sembrava orientata verso un atteggiamento più attendista a luglio e magari anche a ottobre potrebbe andare a ritoccare ancora verso l'alto i tassi. Vediamo se passando dal mercato italiano a quello tedesco troviamo una situazione simile anche qui come vedete c'è questa prolungata fase di lateralità dopo una estesa discesa quindi anche qui abbiamo visto prezzi in calo per due anni circa non c'è mai stato però quel rimbalzo delle quotazioni quindi quella discesa dei rendimenti che ci si poteva aspettare appunto dopo una fase così prolungata di calo. Anche qui se andiamo a guardare il movimento rialzista che c'è stato dai minimi del 2007-2008 vedete siamo arrivati esattamente sul 50% il che da un lato è confortante perché sappiamo che il 50% è un supporto importante il 50% retracement dal lato però non essendosi sviluppato una vera e propria reazione la tenuta del supporto potrebbe essere solo temporanea quindi servirebbe uno sforzo in più da parte delle quotazioni diciamo rimbalzo almeno di sopra dei 139-140 per rendere credibile una fase di crescita significativa per il momento resta elevato il rischio invece di una ripresa del trend ribassista. Questo è invece il grafico del T note decennale statunitense quindi l'analogo dei nostri BTP a 10 anni e Bunda a 10 anni vedete che in questo caso la discesa è stata molto più ampia in termini percentuali rispetto al rialzo precedente siamo andati ben oltre il 61,8% siamo andati anche oltre il 78,6% quindi diciamo che non siamo tornati forse ancora sul punto di origine del movimento ma sicuramente la fase di ribasso delle quotazioni del decennale statunitense è stata più estesa rispetto a quella del mercato europeo anche perché la Fed ha iniziato ad alzare i tassi prima e questa fase laterale che è possibile vedere anche sul decennale americano così come abbiamo evidenziato sulla Italia e sulla Germania ha dato luogo ad un canale quando siamo in presenza un canale così netto come in questo caso viene da immaginare che esso sia in realtà un flag correttivo quindi una classica bandiera è un elemento che compare durante le fasi di appunto pausa del trend ma che difficilmente sfocia in un'inversione tra l'altro proprio inizio del mese di luglio c'è stata la violazione della base del canale intorno all'area 111,90-112 un ulteriore segnale che fa temere una ripresa della discesa delle quotazioni e quindi di un ulteriore rialzo dei rendimenti la stessa cosa la possiamo dire anche per il trentennale qui vi faccio vedere il grafico del trentennale sempre statunitense vedete anche in questo caso la fase di rimbalzo è stata interrotta dalla violazione della trend line che costituisce la sua base c'è stata molta lotta tutto il mese di giugno i prezzi hanno lottato per reagire da questa trend line ma a inizio luglio come vedete c'è stata questa nuova discesa quindi grafico del trent'anni e grafico del dieci anni sostanzialmente ci dicono la stessa cosa se andiamo a guardare in questo caso non più il grafico dei prezzi ma quello dei rendimenti quindi qui in nero abbiamo i rendimenti sui dieci anni statunitensi vedete che anche se guardiamo i rendimenti del resto è normale che sia così visto che i due grafici hanno un andamento opposto ci accorgiamo che c'è stata la rottura di questa importante trend line quindi i rendimenti sono tornati ad avvicinarsi al 4% potrebbero salire ancora tendenzialmente una fase di rialzo dei rendimenti porto il grafico dell'S&P 500 sullo stesso grafico del rendimento del decennale statunitense inverto la scala per quello che riguarda l'S&P 500 quindi in blu abbiamo l'S&P 500 su scala invertita a sinistra e in nero invece rendimenti sul decennale usa su scala normale a destra vedete tendenzialmente i due grafici si muovono in maniera apposta nel recente passato c'è stata una diciamo anomalia nel senso che abbiamo visto questa divergenza e però di fatto quello che si nota di solito è che ad una fase di crescita dei rendimenti corrisponde una fase di indebolimento della borsa quindi se questo movimento oltre il 4 per cento del rendimento del decennale usa dovesse proseguire addirittura se dovessimo vedere i prezzi che tornano come è possibile al di sopra dei massimi dello scorso anno ci sarebbe da temere una fase di evoluzione negativa per la borsa perché dico che è possibile che il rendimento torni sopra il 4 per cento perché se prendiamo l'ampiezza del nostro canale e la proiettiamo dal punto di rottura vedete abbiamo un target dei rendimenti intorno al 4 e 70 per cento quindi attenzione appunto a quello che succede sul mercato obbligazionario perché potrebbe condizionare in maniera pesante oltre ovviamente i portafogli dei bond anche l'andamento del mercato azionario vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento con il nostro prossimo contenuto video